buonasera amici benvenuti nel mio canale allevamento amatoriale di raffaele esposito beh stasera vi volevo far vedere se riusciamo che sono nati i primi betta praticamente e molte uva non ci sono schiuse a questo giro non so se si schiuderanno a breve non so se riuscite a vedere i piccoli che nuotano vedete finalmente si sono schiusi molte uva come vedete sono rimaste non schiuse il papa ancora che le accudisce domani provvederò a toglierlo vediamo se queste altre ore continuano a schiudersi in realtà le uova di questa questa qua sono state tantissime molte però non sono schiuse ancora il papa si prende cura di loro abbiamo comprato anche il mangime specifico infatti ma ne approfittiamo abbiamo pure da mangiare qualche piccoli e i piccoli e mangime apposta per loro uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ragazzi che dire se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al canale lo so con i video si pesciolini sono un po fuori tema ma è una mia passione anche questa quindi perché non non fare video guardate i piccoli quando sono invisibili sono microscopici vi faccio uno zoom di qualche piccolo guardate sono piccolissimi vabbè ci vediamo al prossimo video ciao a you